Anche i dettagli, adesso che c'è l'inquadratura dall'esterno che inquadra i dettagli, anche le gomme si vede lo sporco sulla gomma, porca miseria, si vede la gomma rovinata, capito? Oltre agli intagli che hanno le gomme delle moto, quelli del batte di strada, normali si vedono, come si chiamano? Presente quei piccoli pallini che si formano ai lati o quando la gomma è nuova, oppure le piccole pietre che per strada rimangono attaccate alla gomma? Ma si vedono queste cose addirittura? Chi cazzo avrebbe mai detto? Cioè dall'inquadratura mentre i giochi non lo vedrai mai. Si vede addirittura la marca della gomma scritta piccola sulla gomma, incredibile, scritta in nero proprio come sulle gomme vere, non quelle bianche, non le scritte bianche. E vabbè niente. Io tra l'altro posso mettere anche questo qua come video perché adesso se Premo Share ha registrato insomma le ultime cose che ho detto che sono positive e faccio il video così in italiano. Giusto? Chi se ne frega? Si. Vai, Premo Share, tu mi dai tanto il tuo consenso che la tua voce tanto dici solo si e qualche altra cosa. Share.